L'hai votata pure te a Meloni? E' un po' di voti L'hai votata? Non si dicono, non l'ha sentito Perché non si dicono che mica c'è una legge? E' te l'ha detto lui, io Ah, non lo vuole dire quindi, vuol dire che l'ha votata Tu pensa un po' uno che esce tutte le mattine a far bucio di culo come te Corcami e scaricati, hai innalato tutta qua la pussa e ritorni Voti pure a Meloni No, infatti non lo sento io, non ti dici il voto, lea L'idea iniziale di Piccolo Sonno nasce casualmente e si ricollega in maniera molto strana L'oro dei giorni, che è stato il film di diploma che ho fatto alla Civica Come documentario, nel corso di documentario serale Sempre con Michele Silva e Lea del Bess Con i quali ho fatto anche il blocco nove Che poi, vabbè, è una continuazione, diciamo, un spaccato Semplicemente per una bobina superotto che io avevo acquistato Perché avevo l'idea di inserire in un girato, in un luogo estivo Dove si riversavano un sacco di storie, di personaggi, eccetera E che aveva una storia all'interno del quartiere, in uno specifico di Miguarda E mi fa ridere che torno sempre a parlare di Miguarda Però è così Non avendo trovato dei materiali, perché è stata fondata negli anni cinquanta Non avendo trovato dei materiali amatoriali Mi son detto, quasi quasi, utilizziamo noi delle immagini Facciamo noi delle immagini da zero e le inseriamo Poi questa cosa non è successa L'idea del superotto era proprio perché il superotto rimane un formato Che molto spesso non dà delle coordinate precise, temporali Perché comunque un po' è che l'occhio, diciamo, lo spettatore È abituato a vedere il superotto proprio come immagine di famiglia Ma un po' anche la pasta, i colori, il tipo di, diciamo, di scansione della pellicola La pellicola non è stata usata, questa era il 2016 Ed io l'ho messa in frigorifero Proprio come se l'ho veramente messa in frigorifero Ed è rimasta lì fino ai giorni della pandemia Quindi una giornata ho tirato fuori la vecchia superotto Con la quale avevo già fatto un lavoro ma erano semplicemente prove La finestra da cui giro è la finestra di una delle stanze della casa dove sono nato e cresciuto Quando mi sono detto posso fare delle riprese in superotto Avevo già quasi un'idea di riprendere dalla finestra e non all'interno della casa Primo perché non mi piace quando lo fanno gli altri ma non riesco a essere così diaristico E quindi avevo già praticamente quasi 33 anni di visioni Dello stesso spaccato con persone magari differenti perché si trasferiscono Però il luogo lo conoscevo perfettamente E tra l'altro è la finestra dove ho anche la mia postazione con il computer Quindi è stato un collegamento naturale Fuori dalla finestra sono rimasto colpito dal fatto che ci fossero Pur essendo aprile, maggio e non ci fosse una temperatura altissima Tante persone si mettevano sul balcone a petto nudo sul balcone Sul terrazzino con la sedia sdraio, il lettino Cose che non avevo mai visto E quindi mi sono immaginato un po' ricollegandomi appunto all'idea della piscina Come una specie di lido urbano E inizialmente l'idea era quella di portare avanti questo tipo di riprese Quasi come una finestra sul cortile Quindi trovando, avendo anche la possibilità, essendo a casa tutto il giorno Trovando, diciamo, le diverse abitudini delle persone E quindi anche rispetto al limite della pellicola Sapere più o meno, ma esattamente quando iniziare a registrare, a riprendere E quindi poi una bobina sono diventate dieci perché le ho fatte arrivare E ho raccolto in prima battuta tutto questo materiale Non sapevo effettivamente come metterlo assieme E soprattutto ero un po' eticente dal fatto di fare un film O di montare del materiale Un riferimento ben preciso alla pandemia, alla quarantena Perché un po' non mi andava E poi mi ero già immaginato che da lì a pochi mesi sarebbero aperte Un sacco di finestre di altri autori Quindi diciamo che il mercato della cinematografia della pandemia Sarebbe da lì all'anno successivo sarebbe ingolfato E non avrebbe aggiunto probabilmente nulla Sarebbe da lì all'anno successivo